Analizziamo adesso un'altra command and control, questa volta realizzata con .NET, il suo nome è Covenant. E quindi adesso procediamo con la sua installazione. Sullo schermo potete vedere riassunti i passi che dovete eseguire per installare questo strumento. E semplicemente basta seguirli in ordine e se tutto andrà a buon fine ci ritroveremo con Covenant installato. Quindi procediamo con gli step di installazione insieme. Quindi la prima cosa andiamo a elevare i privilegi, aumentiamo anche le dimensioni del terminale così vediamo meglio. Ok, procediamo quindi sudo su, Kali, Clear, APT Update. Attendiamo qualche secondo l'aggiornamento dei repository. E a questo punto procediamo quindi con i passi di installazione. Quindi Copy, Past Selection, Invio. CH Mode, diamo i permessi di esecuzione allo script. Invio. A questo punto procediamo con l'esecuzione dello script e l'installazione di .NET. Quindi Past Selection, Invio. Ok. Adesso sta scaricando il file compresso per poi decomprimerlo e procedere effettivamente con l'installazione. Quindi attendiamo qualche secondo. Per poi andare a effettuare il git clone del repository Covenant. Per poi successivamente andarlo a eseguire. Come si può osservare anche dal passo numero 7, lo utilizzeremo tramite interfaccia grafica e tramite il web server che automaticamente verrà attestato sulla porta 7443. Quindi l'installazione come si può vedere è completata con successo. Quindi copiamo git clone. Ovviamente questo file lo troverete poi all'interno delle risorse del corso. Quindi attendiamo adesso qualche secondo. E poi procederemo con la restante parte. Benissimo. Adesso accediamo alla cartella con cd covenant covenant copy. Past Selection. Benissimo. A questo punto attendiamo che .net e quindi covenant vada su correttamente. Dobbiamo attendere circa 30 secondi un minuto. Quindi aspettiamo. Tra poco in output vedrete l'url HTTPS 127.001 sulla 7443. Quello è il segnale che siamo pronti ad avviare covenant. Quindi attendiamo. Come si può osservare siamo quindi pronti a connetterci a HTTPS 127.001.7443 utilizzando un browser. Possiamo quindi prendere quest'url. Copy Selection. Aprire il nostro browser. Firefox. E semplicemente incollare il tutto. Invio. A questo punto accettiamo il security risk. Il certificato. Quindi. Upset the risk continue. Ed ecco che ci troviamo nell'home page di Covenant. Nel portale di login. Dobbiamo registrare un utente iniziale. Siamo quindi pronti alla registrazione del primo utente. Come username possiamo mettere test. Mettiamo una password. Confermiamo la password. E premiamo su register. Don't save. Ed ecco che ci troviamo nell'home page di Covenant. Che per certi aspetti. È simile alle command and control. Che abbiamo già esaminato nelle precedenti sezioni. Come si può osservare abbiamo un listener. Abbiamo innanzitutto una dashboard. Grants praticamente l'equivalente dell'agent. Che abbiamo visto su Empire. Ad esempio. Listerner è lo stesso concetto. Che abbiamo visto su quest'ultimo. Su Empire. Il listener è semplicemente l'ascoltatore. Che è pronto a ricevere la nostra connessione. Dalla macchina vittima. Solitamente la nostra reverse shell. I tasking sono i tast che. Una volta che. Abbiamo ottenuto la connessione. Dalla macchina vittima. Possiamo eseguire su quest'ultima. Poi possiamo accedere proprio ai vari tab. Listener. In questo momento ovviamente non abbiamo creato alcun listener. Quindi è tutto vuoto. Launcher. Questo sarebbe il. Vediamolo come il payload. La tipologia di payload. Che ci servirà poi per triggerare la nostra connessione. E possiamo scegliere. Possiamo creare un pacchetto con MS Build. Possiamo utilizzare PowerShell. Possiamo utilizzare tutte queste opzioni. Che lo strumento ci mette a disposizione. Grants. L'equivalente dei nostri agent. In questo momento non ne abbiamo nessuno. Perché non abbiamo agganciato ancora alcuna connessione. Abbiamo eventuali template. Che si possono utilizzare. Per semplificare il processo di. Ottenimento della connessione. Eventuali task. Questi sono tutti i task. Che si possono lanciare. Una volta che otteniamo l'accesso alla macchina. In questo momento. Qui in tasking. Si visualizzano i task. Correntemente lanciati. Al momento non ne abbiamo. Graph. Abbiamo una visualizzazione grafica. Del listener. E dei grant. Che sono stati. Utilizzati. E deployati. Data. Varie informazioni. Ottenute. Dopo. Aver. Dopo la fase. Iniziale. Di accesso. E poi ovviamente. Gli utenti. Che sono registrati. In questo caso. Solo test. Ci vediamo nel prossimo video. Per iniziare. Una prima configurazione. Eccoci che ci troviamo. Sulla dashboard di Covenant. E siamo quindi pronti. A partire con la configurazione. La prima operazione da effettuare. È quella di andare a creare. Il listener. Andiamo su listener. Benissimo. Dobbiamo specificare. L'indirizzo IP. Della nostra macchina. Kali Linux. Per il binding address. E il connect addresses. Quindi. Ci prendiamo l'indirizzo IP. Della macchina Kali Linux. Comando if config. E l'indirizzo IP. È 192. 168. 126. Quindi utilizzeremo quest'ultimo. 192. 168. Scusate. 1. Allora. Non mi fa scrivere l'indirizzo. Come mai? Vediamo un po'. Riproviamo. Create. Proviamo a disconnetterci. Forse si è momentanamente bloccata l'interfaccia. Test. Mettiamo la password che abbiamo scritto in fase di configurazione. Create. Vediamo se adesso funziona. Sì. Adesso funziona. Quindi. 192. 168. 126. Porta. Mettiamo ad esempio. 8081. Stessa cosa. Connect port 8081. E l'indirizzo IP. Lo stesso. 192. 168. 126. Benissimo. A questo punto possiamo lasciare tutte le altre impostazioni di default. Per questa prima configurazione di base. E cliccare su Create. Ecco che abbiamo creato e definito il nostro listener che in questo momento è passato nello stato attivo. Vuol dire che siamo pronti a ricevere una connessione sulla porta 8081 all'indirizzo IP della nostra macchina Kali Linux che è 192. 168. 1. 26. Adesso che abbiamo correttamente definito il listener ci spostiamo sul launcher e qui dobbiamo selezionare la tipologia. Utilizziamo ad esempio PowerShell per lanciare il nostro grant, il nostro agent. Quindi clicchiamo su PowerShell. A questo punto abbiamo varie configurazioni che si possono effettuare. Noi tuttavia lasciamo pure le impostazioni di default e l'unica cosa che dobbiamo fare è cliccare su Generate. Cliccando su Generate apparirà il codice PowerShell che dobbiamo poi andare a eseguire sulla nostra macchina vittima che ovviamente sarà una macchina Windows utilizzando come meccanismo di deploy, come linguaggio più che altro di deploy PowerShell. Quindi non ci resta altro che cliccare su Generate. Volendo possiamo anche scaricare direttamente il file. Noi semplicemente lo copiamo. Eccolo qui. Questo è tutto il codice. Tasto destro. Copy. E lo andiamo semplicemente a incollare su un file. Quindi sudo su. Kali. Benissimo. A questo punto Nano Mio PowerShell Cove per Covenant. Benissimo. Invio. Incolliamo il tutto. Past Selection. Ctrl O per salvare. Invio. Ctrl X. LS. Ed ecco che abbiamo il nostro file. Mettiamoci in ascolto col Python Simple HTTP Server. Quindi Python-M. HTTP. HTTP. Simple. HTTP Server. Invio. Siamo in ascolto sulla porta 8000. Quindi cosa facciamo adesso? Ci spostiamo sulla macchina Windows. Il nostro bersaglio. Che adesso vedete sullo schermo. E ci andiamo a connettere a quell'indirizzo IP. Sulla porta 8000. Quindi 192. 168. 168. 126. Due punti. Porta 8000. Benissimo. Cerchiamo il nostro file. Ed eccolo qui. Mio PowerShell Cove. Tasto destro. Save link as. Desktop. ok benissimo a questo punto il nostro file si trova sul desktop ed ecco che siamo quindi pronti a eseguirlo siamo quindi pronti a eseguire il nostro comando powershell innanzitutto apriamo il comando tasto destro open with notepad ed ecco il nostro codice powershell in questo momento se io mi risposto sulla mia macchina kali linux e vado su covenant e vado su grant come si può osservare non c'è niente proprio perché ancora non abbiamo avviato niente adesso cosa facciamo eseguiamo questo codice powershell e mi aspetto se tutto andrà a buon fine di vedere il grant qui per cui andiamo a eseguirlo non dobbiamo fare altro che copiarlo controllo a copy e avviare powershell quindi avviamo powershell windows powershell semplicemente lo copiamo tasto destro ed ecco che viene tutto copiato premiamo invio e adesso se tutto è andato a buon fine dovrei vedermi il grant apparire ed eccolo che grant activated immediatamente appare ripeto questo è il nostro praticamente il nostro agent adesso siamo agganciati alla nostra macchina vittima possiamo ovviamente vedere lo sname possiamo vedere lo user e altre informazioni tipo il last check in è l'ultima volta che l'agent che la macchina che appunto il nostro che covenant ha contattato l'agent sulla nostra macchina vittima possiamo vedere anche lo status e varie altre informazioni adesso nel prossimo video andremo ad interagire con quest'ultimo siamo quindi pronti a interagire con il nostro grant basta cliccare su quest'ultimo e come si può osservare innanzitutto abbiamo le varie info quindi tutte le informazioni che è riuscito a estrarre dalla nostra macchina windows dalla nostra macchina vittima quindi ad esempio l'ip address lo sname la tipologia di sistema operativo lo username con cui ci siamo agganciati lo user domain name e varie altre informazioni come si può vedere quello che noi interessa è interact qui possiamo andare a interagire con la nostra macchina interact e qui possiamo lanciare tutta una serie di comandi che covenant ci mette a disposizione e anche in questo caso vi invito a sperimentarli perché sono moltissimi banalmente possiamo digitare il comando pvd quindi comandi molto molto essenziali ecco che ci viene suggerito pvd invio ed ecco che adesso è stato mandato un task di esecuzione di questo comando i comandi che possiamo lanciare sono veramente moltissimi dobbiamo attendere qualche secondo e ci dovrebbe tornare ecco il risultato del pat in cui ci troviamo ovvero c user administrator ma possiamo lanciare moltissimi altri comandi possiamo ad esempio lanciare il comando screenshot per ottenere uno screenshot della nostra macchina vittima quindi screenshot invio ed ecco che adesso è stato inviato il task alla macchina windows e se tutto andrà a buon fine otterremo lo screenshot preso dalla nostra macchina windows vediamo ed ecco che abbiamo ottenuto perfettamente lo screenshot della nostra macchina windows e ne abbiamo veramente tantissimi di moduli che si possono utilizzare ad esempio abbiamo un keylogger il modulo keylogger che ci permette di registrare tutti i tasti che vengono digitati sulla macchina vittima quindi keylogger 20 vuol dire che si mette in ascolto per 20 secondi proviamolo keylogger 20 invio spostiamoci a questo punto sulla macchina windows e proviamo a digitare qualcosa tipo ciao benissimo benissimo adesso ci rispostiamo nuovamente sulla nostra macchina kali linux e vediamo se è riuscito a registrare come si può osservare ecco qua che è riuscito perfettamente a tracciare ciò che abbiamo scritto ciao qui parte da qui ed ecco che il nostro keylogger sta funzionando correttamente e poi abbiamo un sacco di altre possibilità i comandi che si possono utilizzare sono moltissimi possiamo andare in task qui abbiamo la possibilità di lanciare anche dei task personalizzati in tasking abbiamo tutti i task che abbiamo effettivamente lanciato noi e come vi stavo dicendo vi invito a sperimentarli perché sono tantissimi come si può vedere ce ne vengono suggeriti veramente veramente tanti in ogni caso questo è il funzionamento di base dello strumento l'ultima cosa se adesso andiamo in graph vediamo effettivamente la rappresentazione di ciò che abbiamo fatto ovvero le node information questo è il nostro grant che è stato agganciato a questo listener quindi concettualmente funziona sempre le command e control funzionano tutte più o meno nello stesso modo abbiamo un listener che si mette in ascolto un agent deployato che si andrà ad agganciare a quell'istender andrà a creare la connessione